Lo zafferano veniva prodotto già dal 200? La spezia di origine persiana veniva venduta in molti mercati italiani e veniva esportata in Egitto, Siria, Tunisia e Terra Santa. I sangimignanesi usavano questa spezia per condire la carne che veniva consumata dal Podestà e dai suoi soldati, come pianta officinale e tintoria, per omaggiare ospiti illustri come l'imperatore Federico II e il re Carlo e Roberto d'Angio. Veniva usato come denaro per pagare i soldati o i mutui, mentre il vescovo di Volterra se ne serviva per corrompere i prelati della cura romana.